Perché per te la discoteca è proprio... Beh, io sono nato dentro la discoteca e spero di rimanere 50 anni che lavoro come DJ e altre cose, però che sono, diciamo, sopra a cavallo con la musica è 50 anni, quindi è la mia vita. È da pochi, comunque, poter affermare di lavorare da 50 anni nella musica e nelle discoteche, soprattutto. Nelle discoteche prima si lavorava come il DJ residente di un club, lavoravi anni e anni in quel club, e poi ora invece sono 30 anni, da 92, che invece il DJ è diventato un po' un giramondo. Un po' itinerante. In effetti è vero, inizialmente era più DJ residente. Solo residente. Io lavoravo, diciamo, nel mio club, lavoravi nel tuo, e poi ci raccontavamo come era andata la serata. Qual è stato il tuo primo club in cui sei stato residente? Il 7-Eleven di Montelupo, Fiorentino, in Toscana, vicino a me. In Toscana. Io facevo il padrucchere all'epoca, lo studista, e però la passione della musica era talmente tanta che la sera dovevo andare a fare il DJ, solo che non si combinava molto bene con la mattina. E infatti è un lifestyle molto notturno, cioè totalmente notturno. Noi andiamo a letto alle 4-5 la mattina, poi alle 7 andiamo a fare un taglio della pelle.